Innanzitutto grazie, poi sicuramente il blasone della piazza e la categoria che per me insomma era il mio obiettivo riuscire a riconfrontarmi con la Serie B, avevo pensato di farlo al termine della stagione in corso invece ho avuto la possibilità di farlo prima e poi insomma abbiamo parlato anche prima, Buzzi di Quelli e Bianchi abbiamo parlato benissimo della società, della città e della passione che c'è intorno all'asco di calcio e questo sicuramente è stato un incentivo. Personalmente credo di aver disputato una discreta parte, una discreta parte iniziale di stagione, la squadra sta andando bene, sono un portiere difficile a spiegare, non mi piace descrivermi più che altro, penso di essere un buon portiere tra i pali, cerco di aiutare la squadra sulle situazioni di palla inattiva, comunque sulle situazioni aeree, di copertura lo spazio e insomma come ho detto prima cerco di migliorare partita dopo partita perché credo che l'esperienza nel nostro ruolo sia un fattore fondamentale e soltanto giocando partite riesci a prendere quella maturità in più, quella sicurezza in determinate situazioni che ti permette di avere una crisi. A lui mi dice una cosa prima delle partite, che è mettiti dove passa la palla, che sembra una stupidaggine però oggettivamente rappresenta l'essenza del portiere, no? Poi la cosa fondamentale credo che sia, che mi dice sempre, che sia quella di divertirmi perché alla fine io penso di essere un portiere con delle qualità e soltanto quando hai la serenità mentale, la capacità anche di divertirti riesci a mettere in pratica quello che vali davvero.